Buongiorno a tutti, voglio salutare e ringraziare il Presidente Gian Santi e tutta la Confagricoltura per l'invito a questa Assemblea che cade in una giornata particolarmente importante per il settore agricolo e agroalimentare. Oggi a Bruxelles si riunisce infatti il Consiglio Agricoltura e Pesca e si riunisce per discutere delle risposte più efficaci alla crisi che tocca il comparto. L'Italia sarà rappresentata dal Ministro Lollobrigida che è lì con voi, che saluto, e si presenterà al tavolo con un documento molto concreto che punta a ribadire alcuni concetti fondamentali. Il primo di questi concetti è che l'agricoltura non è nemica dell'ambiente e della transizione ecologica, anzi è l'esatto contrario. Se c'è qualcuno che ama il territorio, che vuole custodirlo, che lavora ogni giorno per preservarlo, tutelando anche identità e tradizioni, quel qualcuno è proprio l'agricoltore. Per questo il Governo si è battuto in Europa fin dal suo insediamento contro tutti quei diktat ideologici che avrebbero colpito la produzione agricola europea e avrebbero messo a rischio quel concetto di sovranità alimentare che resta un nostro indirizzo irrinunciabile. Abbiamo fatto sentire la voce italiana su tanti dossier e l'orientamento è progressivamente cambiato. Penso alle norme sulle emissioni, sugli imballaggi, sui fitofarmaci, sulla rotazione forzata o sulla messa a riposo obbligatoria dei terreni. Certo, non tutte le questioni sono risolte, ma io credo davvero che il cammino di marcia sia evidente, che il buonsenso stia iniziando a prevalere. L'altra priorità che siamo chiamati ad affrontare è la revisione della politica agricola comune. La PAC con la quale ci confrontiamo è stata immaginata prima della pandemia e prima del conflitto in Ucraina, in un mondo completamente diverso da quello attuale. E allora serve una riforma profonda dell'assetto che abbiamo ereditato, perché la PAC torni a perseguire quegli obiettivi strategici di natura economica e sociale che erano previsti dai trattati europei. Da un lato garantire sicurezza agli approvvigionamenti di cibo di qualità ai nostri cittadini, dall'altro assicurare un adeguato tenore di vita a chi quel cibo lo produce. Obiettivi che possono essere raggiunti solamente sostenendo il reddito degli agricoltori. E questo passa, per forza di cose, da un'altra battaglia decisiva, che è quella contro la concorrenza sleale dei prodotti che arrivano da nazioni terze, che non rispettano le stesse regole sanitarie, ambientali, sociali, che i nostri agricoltori e pescatori sono vincolati a rispettare. Per questo l'Italia si farà portavoce delle richieste degli agricoltori, chiederà alla Commissione europea di negoziare con maggiore incisività e determinazione gli accordi con i Paesi extra-UE e stabilire norme più stringenti e anche precisi standard di reciprocità. In questo caso è fondamentale il capitolo dei controlli. A livello nazionale noi siamo dall'inizio in prima linea. Abbiamo istituito una cabina di regia Interforce e definito un piano straordinario di controlli per il 2024. Questo ci permetterà di allargare lo spettro delle filiere che vengono sottoposte a verifica e così aumentare il numero degli agenti impiegati nei punti sensibili, come i porti di arrivo delle merci. Senza agricoltori non c'è cibo, senza cibo non c'è futuro. Parole che in queste settimane abbiamo sentito dire spesso e molte volte letto anche su cartelli e su striscioni. Beh, c'è chi ha detto e scritto che gli agricoltori sono scesi in piazza per difendere i loro privilegi. Io credo invece che gli agricoltori abbiano tutto il diritto di far sentire la loro voce e chiedere quello che qualunque lavoratore chiede, il riconoscimento del giusto prezzo per il lavoro che svolge e un sistema di regole che difenda e sostenga quel lavoro. Questo sarebbe un privilegio? Io credo che non sia un privilegio, è una battaglia di buonsenso, concreta e reale. L'agricoltura è un settore strategico e noi riteniamo che debba essere al centro non solo delle politiche nazionali. I tanti provvedimenti che abbiamo adottato in questi 16 mesi dimostrano la nostra visione su questo e il nostro impegno, ma anche europee. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che l'agricoltura fosse uno dei punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo di marzo. In quella sede continueremo a sostenere la centralità di un comparto fondamentale, non solamente per la nostra economia, ma anche per la nostra identità e il nostro futuro. È un lavoro che chiaramente come sempre intendiamo fare con le organizzazioni rappresentative e quindi grazie ancora a Confagricoltura, buon lavoro a tutti.